Siamo ai piedi della Madonna della Rocca che è la protettrice di questo santuario. Ci sarà adesso il triduo in ricordo della Madonna. Come avete organizzato il tutto? Questa sera inizia il triduo. Alle ore 18 e 20 c'è il rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica. E questo ogni sera, oggi, domani e dopodomani. Sabato in modo particolare la messa delle 19 sarà presieduta dal rettore del seminario Don Baldo Reina. Domenica la giornata della festa della Madonna della Rocca, titolare della nostra chiesa. Dopo la messa delle 11 e mezzo benediremo il murales di Pare Gioacchino, opera dell'artista Gioacchino Di Caro che ha donato al santuario questa bella immagine di Pare Gioacchino che guarda il santuario e tutta la città. Alla messa delle 19, invece, aspettiamo i bambini per la benedizione dei bambini, come ogni anno. Per cui invito in modo particolare i genitori e i nonni a portare i vostri figli, i vostri nipoti, per questa benedizione particolare della Madonna. Vogliamo stringerci attorno alla Madonna della Rocca perché Pare Gioacchino fu molto devoto della Madonna e in modo particolare pregò, pianse, ottenne grazie davanti a questa immagine della Vergine Maria. Quindi, insieme con lui, vogliamo fare festa alla nostra Madre del Cielo. Si sta per concludere l'anno giubilare. La Madonna è la figura, è stata a centro anche di tante riflessioni in quest'anno. Ci sono anche state, avete avuto anche riscontri di particolari grazie, preghiere, insomma invocazioni alla Madonna qui in questa città dove c'è tanto bisogno di lavoro, dove c'è tanto bisogno anche di aiuto dal punto di vista sociale. Senz'altro, la Madonna si è mostrata come sempre madre di misericordia, madre di misericordia in quanto lei ha vissuto di misericordia ed è continuamente presente con la sua misericordia in mezzo ai suoi figli. Tante persone si sono raccomandate a lei e lei ha risposto sempre. Come dice una preghiera, non si è mai udito nessuno che si sia rivolto a te o Vergine Maria e non sia stato esaudito. E poi la Madonna è madre di misericordia nel senso che è madre di Cristo e Cristo è la misericordia del Padre, il volto della misericordia del Padre. Quindi possiamo ringraziare Dio e la Vergine Maria per quest'anno particolare, per quest'anno giubilare che in questa chiesa giubilare abbiamo vissuto in modo pieno. Un'altra opera di Giochino di Caro, un murales che raffigura padre Giochino Lalomia. L'inaugurazione è così terra domenica, c'è tanto fermento anche attorno alla figura di padre Giochino. Quali spunti per poter realizzare poi questo disegno? Guarda, era da mesi che approcciandomi qua a Padre Giochino avevo visto questa grande parete che si trova all'interno del giardino del convento che fa parte di questo complesso di accoglienza che questo convento ha. Questa parete si prestava molto bene perché è 15 metri d'altezza, pensa. In questa parete si è voluto realizzare questo ritratto che è a 15 metri e misura 6 metri per 8. Ti devi immaginare che dall'imbalcatura da vicino tu non vedi niente, hai una parete così gigantesca è chiaro che ti devi spostare e mi toccava giornalmente a meno 15-16 volte al giorno scendere e salire e allontanarmi per vedere le proporzioni e regolarmi perché si tratta di un ritratto e il ritratto deve essere quello di padre Giochino. Quanto tempo ci hai impiegato? Circa 20 giorni, 20 giorni di grande lavoro e ti devo dire che sono contento del lavoro fatto perché è una grande prova per un artista a lavorare a un lavoro così di grande effetto e ti devo dire che ci sono stati molti consensi sia dei colleghi sia di gente normale questi problemi tecnici che chi sa, chi è in questo campo sa, questi problemi che si possono trovare ma con delle tecniche particolari si può realizzare questo lavoro.